Siamo a Treviso nel quartiere San Zeno con Nicola, uno dei militanti del collettivo ZTL Wake Up di Treviso e oggi siamo dentro lo spazio dell'Extelecom che vedete dietro le nostre spalle, uno spazio che è stato occupato il 27 di dicembre se non sbaglio e che sta muovendo parecchio ci sembra sia nel territorio vostro sia nei territori a fianco, insomma è una conquista di uno spazio molto importante in una zona come il nord-est e questa parte del nord-est. La prima cosa che vogliamo chiederti è da dove nasce questa occupazione, immaginiamo non sia nata il 26 di dicembre ma ci sembrano i risultati di un percorso che tra l'altro abbiamo seguito e niente, vorremmo chiederti come è iniziato tutto. Allora, la Genesi poi di questo spazio nasce in realtà tre anni fa con un collettivo che si chiamava Collettivo Rete Facciamoci Spazio che appunto portava in città l'esigenza e reclamava l'esigenza in città di avere spazi sociali per i giovani. Abbiamo provato un percorso per così dire legale e istituzionale però consci anche insomma di quella che è la situazione qua tra i visi tutte le porte ci sono state sbattute in faccia. A quel punto dopo alcuni mesi insomma di ragionamenti, di discussioni e via dicendo abbiamo deciso di provare a aprire un percorso che si chiamasse ZTL cioè zona temporaneamente liberata. Tra l'altro anche questo è stato il primo posto che abbiamo occupato in primavera, poi abbiamo fatto altre due occupazioni e poi alla fine ci sembrava che il percorso naturalmente potesse portare solo ad un'occupazione permanente di uno stabile. L'abbiamo fatto chiaramente sapendo che il percorso era difficile però poi in realtà sia la città, sia il quartiere, sia poi anche tutti gli amici che abbiamo attorno hanno risposto positivamente all'iniziativa. Tant'è vero che sono passati 20 giorni, siamo ancora qui dentro e in particolare anche i nostri tra virgolette avversari cioè in questo caso l'amministrazione comunale e la Lega non sono in grado di battere colpo perché anche loro sono in difficoltà di fronte al fatto che quello che facciamo sicuramente è illegale. Però è una legittimità profonda perché risponde comunque a un bisogno reale della città, a un bisogno reale di un quartiere. Qui siamo in una zona che è completamente sprovvista ai servizi sociali. L'unica cosa esistente che c'è e questo va dato atto è l'oratorio della parrocchia che è qui di fronte, della parrocchia di San Zeno perché per il resto non c'è nulla. Tra l'altro in una zona particolarmente sensibile come è il retro della stazione, come è un po' il retro di tutte le stazioni in Italia, tanto è vero che appunto quando siamo entrati oltre a carcasse di ratti, a immondizia varie abbiamo trovato siringhe, abbiamo trovato tutti i segnali del degrado. Infatti non a caso poi il quartiere ha risposto davvero in maniera positiva. Domenica scorsa abbiamo fatto un'assemblea nel capannone centrale ed eravamo in più di 200. C'era tanta società civile, c'era tanta gente nel quartiere e questo sicuramente è un segnale che a nessuno può passare inosservato. Bene, le occupazioni che avete fatto prima di arrivare qui all'Ex Telecom avevano una peculiarità, cioè non erano occupazioni già col fine di rimanere mi sembra da quello che abbiamo visto ma erano più occupazioni dei blitz essenzialmente, degli eventi che avevano una durata prestabilita. Spiegaci questa cosa, voi entravate in delle zone che avevano le caratteristiche di queste, cioè di luoghi abbandonati o dalla rendita finanziaria o dal disinteresse delle amministrazioni. Spiegaci un po' questo percorso, come è venuto fuori e anche che senso avevano quel tipo di occupazione temporanea che avete fatto. Quelle occupazioni temporanea che abbiamo fatto in luoghi abbandonati, completamente abbandonati in città aveva lo scopo principalmente di segnalare, cioè noi volevamo portare alla luce quello che era un problema, cioè che Treviso ha intere fette di città completamente abbandonate. Io faccio sempre la provocazione di provare a dare un'occhiata su Google Map e tra caserme dismesse, tra aree industriali che la crisi ha completamente svuotato, in realtà ci sono fette di quartieri che sono lasciate completamente al degrado. Chiaramente poi questo è stato il primo passaggio e pensavamo che fosse giusto farlo, dovevamo metterci alla prova, dovevamo rompere una serie di tabù. Una volta fatto questo ci si è resi conto che non bastava, che dovevamo diventare noi il cambiamento che volevamo e quindi ci siamo assunti la responsabilità sulle nostre spalle di provare a lanciare qualcosa di più, a provare a costruire l'alternativa. Infatti siamo qui dentro appunto da 20 giorni e tra l'altro non abbiamo nessuna intenzione di uscire. Bene, già si vedono i cambiamenti, noi eravamo stati qui un paio di giorni dopo che voi avevate occupato, già adesso sia lo stabile, la casetta diciamo, sia lo stabile grande, ci sembrano cambiati radicalmente, avete fatto dei grandissimi lavori e abbiamo letto sulla stampa locale che questa cosa sta riconosciuta un po' da tutti, anche perché è impossibile dire il contrario. Poi tra l'altro, scusami, il fatto appunto di tutto il lavoro di autorecupro che stiamo portando avanti, anche con degli aspetti eticamente giusti, stiamo utilizzando tutti i materiali riciclati, stiamo comunque progettando qualcosa di diverso rispetto a quello che può essere il classico centro giovani o case delle associazioni e anche e soprattutto il fatto che comunque da noi è l'assemblea sovrana e quindi è il confronto tra pari, in realtà la cooperazione, la cosiddetta cooperazione, in realtà può dare, se a fin di bene può dare solo buoni frutti e infatti il lavoro che stiamo portando avanti questi giorni è la dimostrazione di questo. Sì, infatti questo ci sembra uno dei migliori esempi di quella che noi chiamiamo pratica del comune, questo è un percorso che nella materialità di questo luogo qui sta dimostrando quello di cui parla e proprio di questo volevo andare a parare, ovvero la diversità e il rapporto in questo momento tra voi, la vostra esperienza, un'esperienza di movimento nella sua totale autonomia che riesce a produrre questo e invece la politica cittadina. Abbiamo letto direzioni scomposte da parte della Lega Nord, da una parte, da parte del partito truffa di Forza Nuova e anche delle dichiarazioni strane da parte del signor Damiano che come sapete è arrivato da Belluno ma è venuto da voi. Volevo un po' chiedervi sul piano politico in questo luogo che ha treviso, che è un po' il simbolo anche della decadenza leghista che ha difeso la rendita ma poi ci ha lasciato le loro città che dovevano essere assicurate dalle ronde padane, da quel metodo sicuritario di gestire e poi ci ha lasciato questi luoghi, luoghi del disagio che per fortuna esperienze come la vostra hanno riempito di senso. In questo momento il rapporto con la politica cittadina, le reazioni e voi come vi state ponendo? Raccontaci un po'. Per quanto riguarda la politica cittadina c'è da fare una premessa, siamo in campagna elettorale e questo è una cosa a cui non possiamo prescindere. Chiaramente a parte il silenzio imbarazzato della Lega e delle forze di centro-destra e chiaramente sono in serie difficoltà sia per dinamiche interne loro ma sia anche perché non riescono a reagire in qualche modo a questa presa di parola forte da parte della città sia poi, vabbè, tralasciando la cozzaglia Forza Novista e tutti i vari gruppetti di estrema destra che tentano di balbettare qualcosa ma che poi di fatto non sono assolutamente minimamente presi in considerazione a nessuno perché sono nulla e quindi valgono nulla, il centro-sinistra cittadino ovviamente ci guarda con estremo interesse perché comunque siamo una realtà nuova, siamo una realtà dirompente e vincente e chiaramente con la campagna elettorale in atto e ovviamente col consenso che abbiamo in quartiere nessuno si sogna di dire che sta sbagliando oppure che le nostre istanze sono illegittime o sbagliate ovviamente noi ci poniamo consapevolmente, sapendo appunto chi abbiamo di fronte come dire, per non farci strumentalizzare poi da quella che è appunto la campagna elettorale addirittura c'è chi ci ha proposto di poter fare banchetti per raccolte firme intendo a fini elettorali dentro qui assolutamente chi propone di fare tavole rotonde le varie liste civiche che si candidano propongono di fare tavole rotonde con i cittadini qui dentro quindi insomma è universalmente noto che le occupazioni in campagna elettorale sono più che legittime poi un giorno dopo diventano un problema sociale ma fino al giorno prima esattamente, e poi per quanto riguarda la polizia, beh guarda io sono così mi faceva sorridere le dichiarazioni di Damiano che ricordo che è quello che ha messo ha dato l'obbligo di dimora ai compagni, che ci ha caricato di denunce per veramente per sciocchezze e chiaramente anche lui da un lato voleva dare segnale a Gentilini che sparava a zero su di noi e che appunto politicamente non conta più nulla e contemporaneamente dobbiamo dimenticare che il giorno dopo Damiano andava in pensione e quindi evidentemente Damiano è il questore di Treviso, l'ex questore di Treviso e chiaramente voleva andarsene come dire in bellezza col botto col botto e quindi ci ha espresso una mezza solidarietà che francamente ci ha lasciato un po' perplessi dopodiché noi, ripeto, per quanto riguarda la questione Sgombero per quanto riguarda la questione del rapporto con la polizia noi fin da subito siamo stati chiari cioè noi stiamo ponendo un problema politico e vogliamo che la risposta sia di tipo politico non ci interessano altri tipi di discorsi non ci interessano altri tipi di dinamiche, questioni di ordine pubblico e via dicendo perché noi stiamo parlando d'altro io spero che chi ha orecchi da intendere intenda perché comunque quello che stiamo vedendo è davvero grosso, è davvero forte e poi è chiaro che se un giorno dovesse arrivare lo Sgombero comunque noi questo posto non lo lasciamo e non lo lasceremo così facilmente non significa che faremo come dire forme di resistenza attiva però comunque ci dovranno trascinare fuori e noi ci appenderemo alle mura con le unghie e con i denti altra cosa interessante da dire è che una serie di cittadini personalità pubbliche dello spettacolo, della cultura ma anche genitori, singoli cittadini e associazioni hanno deciso giustamente anche di mettere in piedi un comitato un comitato di garanti o un gruppo di contatto chiamiamolo come vogliamo che sostanzialmente assume su di sé la responsabilità di interloquire con la proprietà di interloquire con la questura, di interloquire col prefetto come parte terza quindi non come occupanti ma appunto come coloro che si pongono come garanti proprio perché tutta questa esperienza non abbia da avere un epilogo violento per scongiurare in qualche modo lo Sgombero e anche questa cosa qua tra l'altro che ha raccolto da 20 centinaia di firme e anche su questo io sono completamente stupefatto non è più l'attreviso che conoscevo fino a qualche mese fa c'è qualcosa di diverso che davvero sta cambiando è un segnale e anche questo come dire in qualche modo ci rincuora e ci dà forza per continuare ad andare avanti perché una delle frasi che c'era in questa lettera era scritta in grassetto era lasciateli lavorare e era un po' significativa che venisse appunto da questo gruppo di garanti perciò di persone che sono al di fuori del vostro collettivo direttamente che però uno difendevano il vostro percorso due si mettevano in prima persona anche rispetto ai progetti futuri che saranno nel vostro spazio e ci sembra un po' l'ennesimo esempio di come tante di quelle politiche che riescono poi a coinvolgere cittadinanza nascono fuori da un certo agone politico da un certo discorso della politica perché l'assemblea di domenica è un'assemblea che vi avranno invidiato molti partiti politici e molti movimenti di questa città perché io ho visto le foto erano impressionanti era la stanza che vedete dietro le spalle di Nicola era piena di 250-300 persone che hanno partecipato attivamente è un'assemblea che ha avuto chiaramente un peso politico notevole invece volevo passare proprio alla composizione cioè chi siete collettivamente questa qua che esperienza è da chi è composta chi c'è nel collettivo ZTL Wake Up? Allora il collettivo ZTL Wake Up è un collettivo estremamente eterogeneo tendenzialmente di giovani ma non necessariamente giovani non è un gruppo giovanilistico è un gruppo di cittadini giovani e meno giovani che vivono in questa città principalmente studenti ma non solo studenti molti lavoratori che tra l'altro mettono a propria disposizione le proprie conoscenze i propri saperi proprio per fare quel lavoro di autorecupero che dicevamo prima che si ritrovano attorno a questo progetto cioè che è quello di ridare uno spazio a Treviso ridare a Treviso la dignità che si merita finalmente dopo tanti anni i ragazzi soprattutto i più giovani si rinnamorano della propria città e quindi non vedono la propria città come una cosa oppressiva dalla quale scappare il prima possibile ma bensì vedono la loro città come lo spazio proprio dove agire e anche far politica e questa cosa è importantissima è una cosa che non si era mai vista una parte, una componente fondamentale e questo ci tengo a dirlo del collettivo è costituito da quello che è stato e che è tuttora il movimento studentesco che poi in questo tunnel è riuscito a fare delle iniziative molto importanti nella città di Treviso e appunto il fatto di essere un gruppo estremamente eterogeneo ti costringe di volta in volta a discutere sia quando si decide il colore di una parete sia quando si parla di massimi sistemi e questo meccanismo della discussione a volte è stenuante a volte è difficile perché non possiamo nasconderci detto un dito è vero che discutere è difficile però poi in realtà ti dà la possibilità a di mettere in crisi anche le proprie convinzioni e appunto mettendo insieme poi quelli che sono i saperi poi a costruire un'alternativa reale un'alternativa che poi si esprime in questo spazio ma che ovviamente vuole andare anche oltre questo cancello oltre queste mura possiamo dire che tra la democrazia dei click di Beppe Grillo e quella delle poltrone del PD insomma ce n'è di carne in mezzo mi sembra c'è la nostra vita bene un'altra cosa di cui volevo parlare è che effettivamente questo spazio è già attivo cioè voi avete occupato il 27 di dicembre ma dal 27 di dicembre questo spazio è già un laboratorio vedo che si sta lavorando in tutti i locali per metterli a posto come si diceva prima sono stati fatti dei lavori già immediati di mantenimento dello spazio che è molto meglio di quant'era tre settimane fa ma è già un luogo di produzione culturale attività quello che state facendo anche se vuoi dire qualcosa rispetto a quello che succederà nello spazio in questi prossimi giorni dicelo pure sì, allora beh, allora di attività e di progetti già in corso c'è ovviamente la base che è l'autorecupero dell'area che è questo diciamo che è la parte più come dire più consistente del lavoro che stiamo facendo abbiamo in programma tutta una serie di presentazioni di libri di battiti proiezioni di film qui dentro si tengono le assemblee del coordinamento studentesco stiamo proponendo adesso stiamo lavorando alla costruzione di un'osteria sociale cioè che significa che non è la classica osteria contro la quale noi combattiamo ma è qualcosa di diverso che parli un linguaggio diverso che parta non tanto dalla vendita delle ombre ma che parte dalla socialità e magari che l'ombra possa essere un fattore socializzante e non il contrario invece alienante e tra l'altro è anche un progetto molto ambizioso perché stiamo utilizzando tutto materiale di recupero tutto materiale di riciclo stiamo restaurando sedie abbiamo fatto un bancone con tutti i scarti industriali e cose di questo tipo e quindi sotto anche quel profilo voglio dire è comunque molto ambizioso vogliamo mettere in piedi un orto urbano cosa altra cosa importante nell'area verde che abbiamo qua davanti esatto vogliamo mettere in piedi un orto urbano da proporre poi al quartiere a chi vuole venire a coltivarsi il proprio pezzettino di terra dove comunque si parli anche lì di un linguaggio diverso contro gli OGM per la naturalità dell'agricoltura e del cibo per il rispetto della rotazione delle stagioni e via dicendo e poi voglio dire l'appello che lancio e poi se ci sono altri progetti altre idee di venire qua perché ecco la cosa importante a dire è che noi abbiamo una sola consapevolezza non bastiamo noi stessi infatti anche l'assemblea di domenica scorsa aveva proprio questo scopo cioè quello di lanciare la palla anche ad altri che magari non sono qui dentro in questo momento con noi ma che magari possono avere buone idee possono avere buoni progetti a proporre e che quindi questo spazio è uno spazio comune perché solo partendo dal concetto e dal principio di uno spazio comune allora questo spazio può crescere insieme a noi altrimenti se pensiamo che sia uno spazio pubblico significa che si parte dal presupposto che c'è qualcun altro che te lo prepara tu vieni usufruisci e te ne vai e noi questa cosa o meglio non è il percorso che ci interessa bene detto questo penso che sia tutto ringraziamo Nicola di ZTL e tutti i ragazzi che stanno facendo vivere questo spazio da Treviso vi salutiamo per Belluno più in bocca al lupo Nicola grazie grazie